Il presidente Mitterrand, il quale ha preso l'iniziativa di invitare un rappresentante degli studenti dei dodici paesi e li ha invitati a pranzo e lì c'erano dei studenti che erano molto bene preparati e che erano già stati coinvolti con la commissione e li hanno dunque chiesto a Mitterrand se non potrebbe farsi portatore, iniziatore di un'azione in questo settore.